Dal lancio del frisbee ai salti acrobatici, dalla ricerca di persone disperse alla conduzione di animali al gregge, i cani si sono riconfermati migliori amici dell'uomo, ma anche di pecore e anitre. Ieri pomeriggio a Piacenza, presso il campo d'addestramento in via 24 Maggio, è andata in scena la decima edizione di Quattro Zampi Nazione, un appuntamento di successo atteso da tanti appassionati. Abbiamo cercato di straffare in questa decima edizione, quindi abbiamo concentrato tantissime discipline, tutte a livello professionistico, fatte da alcune da Forze dell'Ordine e altre un po' più ludiche, fatte da varie associazioni provenienti da tutta Italia. Vediamo la possibilità sia di toccare da vicino cos'è il volontariato in protezione civile, ma anche di vedere da vicino esibizioni di varie discipline e quindi eventualmente spunti e idee da avere con il proprio cane. Bisogna cercare di fare il possibile per far amare i cani anche alle persone che magari non li amano come noi, quindi cercare al massimo di avere dei cani educati nel rispetto di terzi. All'ingresso della manifestazione il pubblico ha spalancato gli occhi di fronte all'automobile della Polstrada di Bologna modello Lamborghini Huracan, impiegati in attività operative per il trasporto urgente di sangue e organi. Ha partecipato all'evento anche il consigliere comunale Sergio Pecorara, Forza Italia, che ha annunciato l'imminente approvazione del regolamento per il benessere animale. Spero che al più presto venga la luce e venga portata avanti e venga attuato. Con grande forza portiamo avanti questo regolamento perché a Piacenza, ad esempio, non ci devono più essere cerchi con animali ma bensì cerchi normalissimi ma altrimenti senza animali che possono esistere. Quindi sul territorio comunale basta di queste cose qua.